ecco la guarda la canina del Luigi vai Luiz ciao ragazzi intro veloce veloce che c'è il pesce che bolla siamo già pronti siamo tornati a prima luna devo provare visto che tra pochissimi giorni il mio compleanno una canettina che mi ha regalato Luigi quindi non perdiamo tempo andiamo in acqua ciao 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 ho tagliato tutta l'erba eh vabbè allora proviamo subito partiamo con la canina nuova e ho già fatto un casino ecco Luiz ha già il cannino la giuda è scappata metti i tempi che cavolo il Lorenzo quando pronta la moscata proviamo la canina nuova proviamo la canina nuova eccola guarda la canina del Luigi vai Luiz guarda qui che meraviglia la taglia è aumentata un po' vai 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 mamma che cattive oh guarda cambio canna sull'altro spoon vedrai che è diverso la canna si perché devo usare un altro spoon ho già questa pronta l'altra canna di Luigi via vedrai che adesso cambia non mi recupero più veloce eccola 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 vai luigi osti vai vai noi siamo in trecchere anche lui ma che bella fariotta ma che bella fariotta ma ma che bella o bordo che bella mamma mia o va che pezzo cazzo che bella vai mamma mia un razzo è andata via eccola poi c'è l'iridea ma che bella l'irideotta va cattiva come la peste vieni 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 dai che ti slamo dai adesso provo a crank a crank guarda crank guarda che roba non ha fatto il tempo a toccare l'acqua non ha fatto il tempo a toccare l'acqua non ti slamare si è legata sul filo guarda che roba ok boh slamata vai bella vai guarda madonna o luigi coi crank le piccolino è una roba bestiale oh anche a po' per sicuro mangiano eh ce l'hai bravo luis oh dov'è ma guarda come tira questa che non viene su cos'è un affario si guarda che bella guarda ma che colori che ha mamma che colori uff che uccane uff che uccane madonna luigi va che fare io ciao 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 oh ma a crank con il crank non fai tempo come tocca l'acqua gli vanno subito addosso si a galla galla roba piccola luigi che sta alta serve c'è dei cracchettini da galla roba del genere popperini cos'è beh iridea ma guarda che forti io no questa è un irideossa guarda che roba è lui guarda come lancio vediamo se fa come prima va già ci ha dato ci ha dato ancora eccola l'ho trovato l'esca dopo prova popper così così alte è da ballare cos'è questa è l'idea ma deve essere la roba che sta a galla loro vengono subito a vederla va benissimo va bene recuperalo pianissimo vedi te recuperalo pianissimo vuoi stia fuori una così prima di mettere il popper niente niente gottino a fregarmi fario queste due ore che mi che mi veniva a stuzzicare o due ore boh adesso posso provare il popper vai meraviglia vai ora provo a popper e mo vi faccio quattro risate a popper popper della heracles proviamo guardale qui eccola a popper eccola a popper a popper guardate che le prendevo a popper c'è la chetta luisi grandissimo tiridea anche la mia oh va che ci sei slamata vai va che l'ha sbagliato eccola! al primo morso l'ha sbagliata e l'ha presa col secondo lamata? vai è andata? tre volte ci ha dato e non c'è rimasta affambagno ci ho impiccato stavolta cos'è? fariotta? fariettina? avvio fario, oppla! ah sei tu l'assassino allora eccola dov'è? tira di bestia ma non riesco mica a vederla ah eccola qua si bella fariotta va ma che bella è come punta guarda che roba oppa già slamata un'altra meraviglia proviamo il kuganano sempre clone sei davvero l'assassino! eccolo! ah! l'ho persa! l'ho persa! l'ho messa anche male vediamo se tipo popper lo mangiano eccola! questo non è un popper quello che avevo sulle lezze questo è un cranchettino quello che si è messo male l'amo e l'ho fatto tipo popper no? ma che cosa fa? che orto giusto! non so mi arrabbi eh lui io le chiamo io le chiamo è un bambino è un progetto è un progetto calcata l'aliaspere un gatto eccola il crank di Aliaspere, la cannetta del Luigi il 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 è la massa ok, molti è la massa, vai mettiamo quello della, dai va il presso oh vaffa ma, che cattiva, questa era la nera idea, per esempio di cattiva vediamo un po', vediamo un po', infatti non è l'idea, non è Luigi guarda che roba, incredibile come sono forti oh, c'è da mare, vai, sedia libera eccola se forse trovate il cane in più cos'è, è l'idea questa è più piccolina pulassi sta mangiando oh è Luigi, non c'è parla eeeh, che cattiva, che cattiva che roba ma c'è un nodo nel mulinello che è sta roba po' che fario po' che fario Luigi ma non vuole venire mica fuori ma non vuole venire ma non vuole venire vai dai uuuuuh mamma mia Luigi che colori questa gli faccio una foto dove l'amo? c'è un po' che cosa roba madonna, guarda che roba che meraviglia vedi se devo fare una fotografia non so che esce non so che esce no più o meno un giro ciao bella troviamo la lecca dell'aeraclass vediamo un po da finché sei fuori ti lancio davanti oh famagno come tira guarda che viene da terra guardalo 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 nooo rimettiamo il moca lo vediamo ecco il cane ecco il cane non riuscivo più a portarne una a Guadino guarda l'hai visto? sono stato basso apposta per non farmi vedere perchè se no ti vedono se ne vanno via oppa che doccia fresca allora sulla mattia sola brava che lavata perché si è diventata difficile ce la faremo a fare un pesce per andare via ma che ho quarto d'ora guarda boh io ce l'ho fatta ho detto ce la facciamo fare un pesce ahahahah probabilmente è l'ultimo pesce ed è un affario per l'amata sul lamo di pancia che si è attaccata dai sei attaccata anche nel Guadino ma che casino bella cipollina guarda che bella che sei vai vai su via ecco ecco luigi vado a parlare per quello che c'è portala oppa adesso puoi dire che l'ho fatta due 보 mica va è già pronta va madonna si è già arrabbiata dai qui su esci mamma che lavata io dietro dai 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 eccola, l'ho vista, stai giù, l'ho proprio vista oh diciamo che ne ho fatte tre ah ti ho visto stavolta, ariotta qua tre volte mi hai seguito opa, fariettina vai, la Mattia è sola, prova un po' mamma come sei bella come sei bella di là, brava ho quattro minuti Luigi ciao ragazzi giornata finita anche oggi è andata bene divertiti un sacco mangiavano molto corto quindi ne abbiamo perse davvero una marea ma ne abbiamo presi parecchi no però in confession ne abbiamo presi parecchi ma poi abbiamo preso tutto il tempo dall'inizio alla fine si si dall'inizio alla fine quindi super giornata la canna di Luigi super promossa e voi ricordate di iscrivervi al canale ciao ragazzi ciao